Buongiorno a tutti, oggi è domenica 5 marzo e arriviamo a parlare finalmente di quello che è l'andamento dell'indice MIB, l'indice con cui ho iniziato tante anni fa a fare le mie analisi. La situazione è molto simile a quella su DAX. A questo punto però vorremmo anche sapere quando andremo a chiudere l'inverso per scendere anche un pochino. A quanti giorni siamo arrivati di inverso, ovvero di annuale inverso, da qui a venerdì 3-3, sono 298 giorni. 298 giorni ci avvicinano tanto ai 336 che può durare al massimo un annuale inverso, qui aggiorniamo 295 al... E quindi sappiamo al massimo per quanto tempo possiamo ancora provare a salire, 5 più 36, 41 giorni, ma... A che punto siamo sul nuovo annuale, sull'annuale attuale? A quale punto siamo arrivati? Allora, vi avevo segnalato che non era affatto facile fare la centratura quando si fanno 13 candele verdi e una marea di altre candele verdi e si continua soltanto a sussalire. Però, come al solito, non è un problema ma è un'opportunità per vedere di tirare fuori il meglio da noi e direi che questa è l'opzione migliore che ho trovato. Qui è chiaro che ci possa essere la chiusura di un primo mensile che purtroppo non può aver chiuso qua. 22 barre, minimo 24. Qui è estremamente difficile, quindi direi che a 33 può averlo chiuso serenamente, lo aggiorno anche qua perché l'ho appena scoperta come cosa. E poi aggiungiamo che cosa? Aggiungiamo un altro mensile che parte con tutte le regole, con tutto il tempo sopra questo minimo e quindi finalmente sono arrivato a una centratura soddisfacente. Perché continuiamo a utilizzare soltanto swing, vincoli per muoverci e solo in intraday? Per il fatto che per andare a trovare questa centratura, 6-2, ho fatto i salti mortali. Ritorniamo un attimino al 6-2. Ho ricambiato tutto, ho rimesso tutto a posto, per cui è stato un altro lavoro fatto per tutti. Ok, eccoci qua. Allora, il 6-2, tanto quanto ci siamo, no? 6-2 6-2 E questo è il secondo T settimanale, che parte il 15-2 e che dura 6 barre appena, vedete 6, che sfido le persone a trovarlo. Allora, qui sembrava molto più semplice che avesse chiuso qualche cosa, qui invece non ha chiuso qui. Siamo arrivati qui al, come detto, 15-2. Abbiamo fatto una chiusura schifida, ma per le regole è tutto corretto, quindi ce la teniamo così com'è. Siamo saliti malissimo, poi finalmente abbiamo aperto in gap up, poi quasi siamo tornati su questi minimi a 27.425. Abbiamo fatto 473, cioè meno di 50 tick e così abbiamo fatto iniziare il nuovo T settimanale. Sì, ahimè sì, e per andare a ricostruire anche tutto questo movimento e trovare 6T-3 Voi provateci a casa, eh, se volete per esercizio, ma fare da qui a qui No, dove è finito? Scusate. Allora, fare da qui a qui No, 18 barre Forse non ho ancora trovato l'accentratura, perché è una roba che è estremamente complessa da fare se i cicli non sono canonici, ma se ci stanno a livello di tempo puro. Per cui, ok, proverò di nuovo a scomporre questa roba qua nei sei giornalieri che vi avevo detto. Ed ho capito quindi perché poi era più difficile capire che da qui effettivamente partiva un T settimanale, qui mancava una chiusura per l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, qui non ha chiuso il settimanale, non è partito un nuovo settimanale, ma ci siamo fermati. Anzi, ma qui siamo arrivati a sei, al sesto T-3, quindi abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere. Però qui non ce l'abbiamo. Guardate un po'. Partiamo da qui, da questa candela, arriviamo a questa, ma la verde non possiamo contarla, siamo a cinque giorni. Wow, bellissimo, meraviglioso, eccezionale, non è una cosa normale. Siamo molto tirati, però, di inverso, ed è questa la cosa che più mi interessa, ovvero, quando abbiamo iniziato a scendere, vi ho dato subito il punto J, che era a 27.876 punti, ovvero, non scenderemo se non avremo i volumi per scendere e quindi iniziamo a ritornare verso il punto J. Cosa è successo? Esattamente come è qui, esattamente come è qui, esattamente come è qui, ovunque, e lo impari una volta, e se sei umile, riconosci l'errore, lo impari per sempre, noi abbiamo privilegiato dall'ora i long, abbiamo privilegiato le chiusure per fare eventualmente short e non abbiamo rischiato più a valutare degli short su una partenza di biennale ormai certa. Dopo un infido raccordo perfetto per le regole, ok? Non esiste. Per cui, adesso siamo a 32 barre di t più 2 inverso, può aver chiuso qui a 21? No, di nuovo, guardate come è malefico. Qui l'indice non può aver chiuso a 22. È semplice, no? Fammi un'altra candela che va a finire qui sotto. No. Pur di trarmi in inganno, tiro su. Ti nego lo short che era dovuto e bastavano due candele. Esattamente come è successo qua. Negato qua, rinegato qua. E allora mi costringe a rivedere tutta la centratura per tornare su. Stessa identica cosa sta facendo all'inverso, sto simpaticone incredibile. Ovvero, arrivati qui a 21 barre. Cosa ti costa fare ancora due barre verdi e arrivare sopra questo massimo? Niente. E invece ti parte al contrario e ti spiazza. Non noi. Noi 12 su 12 è una scalpata in gain di 50 rotti punti sul MIB. Non noi. Però in media ti frega perché ti aspetti gli ultimi giorni per la chiusura e per la partenza di un annuale inverso. Non li fa. Fa prima partire un T più 1 inverso, che sembra tra l'altro molto un altro T più 2 inverso, ma questo non può essersi chiuso. E inizia a lateralizzare, ti fa sperare di scendere, ma grazie al punto J, che ormai è quasi raggiunto, perché a 27.876 e siamo a 839, 37 tic di distanza fa ridere, e questo diventa il nostro target. Se mi neghi la discesa e lo fai ritornando su con i volumi, io mi aspetto che tu ritorni sopra e che vada proprio a prendere il punto J. Quindi l'aspettativa per la prossima settimana è di tornare sopra i 27.876 e, tra l'altro, avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere un annuale. E anche qui vi faccio notare quanto potrebbero essere sporchi, luridi e cattivi. Qui a quanto siamo di barre? A 11, giusto? Però che cosa può succedere, come dico sempre, quando faccio le analisi di Bitcoin? Basta che si vada, appunto, proprio anche solo a pari del punto J, 27.876, spike rossa, condizione necessaria e sufficiente per la chiusura a 32 barre, già fatta per il mensile inverso, perfetto, siamo oltre per il secondo T più 3 inverso, secondo T mestrale inverso, chiude anche a catena questo, chiude l'annuale inverso, quindi con una semplice spike, con un massimo che mi va sopra i 27.876 e potrei iniziare a vedere l'indice crollare. Con una partenza a V che spiazzerebbe l'universo, probabilmente. questo è quello che inducono a pensare, ma questa è la condizione necessaria e sufficiente, quella che avvisa che tra un po' può arrivare qualche cosa di non bello se oltre a un'iniziale discesa e violazione del swing arrivano anche i volumi. Quindi se no si continua a salire, se no si continua a salire, se no si continua a salire, se no si scende un po' ma poi si continua a salire. Quanto tempo si può invece ancora andare avanti con questo mensile inverso? Qui siamo soltanto a 32 barre, quindi possiamo arrivare fino a 43, fino al 20 di marzo possiamo provare ad aggiornare i top, in tutti i modi che vogliamo. Quindi abbiamo sia la finestra più corta, apertura in spike e inizio di catastrofe di discesa a meno di raccordo inverso, e anche quello lo mettiamo già in conto, ecco perché non ci facciamo fregare tanto facilmente. Seconda possibilità, continuazione di salita fino alla massima espansione del mensile inverso, ovvero fino al 20 di marzo. Direi che vi ho dato tante valide indicazioni, l'aspettativa in media comunque è almeno di ritornare sopra questo massimo, come detto, e poi di iniziare a valutare estremamente bene il da farsi, perché la condizione necessaria e sufficiente è violata a questo massimo per la partenza di un nuovo annuale inverso ce l'avremmo. non vogliamo certamente farci cogliere impreparati, giusto? O almeno io sono pronto. Se raggiungeremo anche qui i 27876, mettiamoci l'allarme, 27876 o la condizione necessaria e sufficiente per chiusura TI e inizio discesa. Se arrivassero notizie che iniziano a farci precipitare, ricordatevi che io ve l'avevo già detto durante la fine settimana del 4 e 5 di marzo. Vi avevo già avvisato anche potenzialmente se arriviamo al 20 di marzo con 15 giorni d'anticipo, due settimane. Si inventino quello che vogliono o inizia un raccordo inverso o inizia un nuovo annuale inverso, tra poco. E quindi salita, ma attenzione a quello che può iniziare ad arrivare per la discesa. Ok? Vi ringrazio per il vostro tempo e spero abbiate apprezzato questa analisi molto approfondita che mi ha richiesto veramente tanto lavoro per ritornare indietro a fare la scansione di tutti i T settimanali e qui abbiamo ancora un punto di domanda di tempo puro ci siamo ma mi piacerebbe tanto trovare anche la partenza del sesto T-3. Se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like perché è il lavoro che viene fatto sabato e domenica gratuitamente per tutti. Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Fate il corso gratuito Trading Days nella playlist Trading Days appunto per imparare che cos'è la ciclica base per arrivare poi all'evoluta. Tempo finito. Buona domenica a tutti. Arrivederci. A presto. Grazie.